All'angolo blu della MF Academy, Michele Merola! Un applauso per Michele! Il suo ospitante all'angolo rosso della Buda Gym, Alessandro Pugliese! Un applauso per Michele Merola! Buon applauso anche per Alessandro Categoria 62 kg 3 riprese per 3 minuti Le regole sono quelle del K1 Nasea Voi la fama per quanto pesi Successo per quanto vesti Non scrivere testi Scriviti a presti A me, foto cazzo Canto fisico, pianotico Mi mi sei racchiccito Tutto da te Sono un racchiccito Ammetto ciò che faccio Sono spericolato come Pasco Ai tempi di prega Ti ho spappolato Sei una sega Freddo come il caffè Comprati una sega E fredda Ti arrepanto Non fai da te Conosco criminale Vorrebbe fare il rapper Conosco rapper Vorrebbe fare il criminale Io non dico a te Come fare le panette Non ti ramè Come devo fare il rapper Conosco criminale Vorrebbe fare il rapper Non scupere a fer Vorrebbe fare il criminale Parliare San Lorenzo Faccio la fredda Guardare Faccio la fredda Ti arrepanto Ti arrepanto Vai Invece Ti arrepanto Ti arrepanto Grazie a tutti. 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 Fine ripresa. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. 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 Il 20esimo incontro, L'Angelo Blu, Merina! Il 20esimo incontro, L'Angelo Blu, Merina!